ciao a tutti ragazzi bentornati a questo nuovo video oggi svolgeremo una scheda d'esame affronteremo 30 domande in massimo 20 minuti di tempo mi raccomando scrivete nei commenti tutti i vostri dubbi e tutte le vostre paure io cercherò di rispondere a tutti adesso se ancora non l'avete fatto cliccate mi piace al video e iscrivetevi al mio canale così potrò continuare a pubblicare i miei contenuti ora allacciamoci la cintura perché iniziamo quiz numero 1 la corsia di accelerazione serve per rientrare sulla carreggiata dell'autostrada dopo che si è usciti da un'area di servizio la risposta corretta è vero l'area di servizio è quella che noi comunemente chiamiamo autogrill e quando usciamo dall'autogrill e rientriamo in autostrada dobbiamo prendere una corsia di accelerazione quiz numero 2 in presenza del segnale raffigurato si deve rallentare usando continuamente i freni per non danneggiare il cambio di velocità la risposta corretta è assolutamente falso se utilizzo solo i freni i freni si riscaldano e non funzionano più correttamente per avere una frenatura equilibrata e corretta devo utilizzare le marce basse qui numero 3 il segnale raffigurato fa riferimento alla massa effettiva sull'asse al momento del transito la risposta corretta è vero il segnale raffigurato indica il divieto di transito a tutti i veicoli che sull'asse hanno una massa superiore indicata dal segnale stesso e mi raccomando fa riferimento alla massa effettiva quiz numero 4 il segnale raffigurato indica che si può svoltare soltanto a sinistra la risposta corretta è vero il segnale raffigurato è un segnale di obbligo e in questo caso ci indica l'obbligo di svoltare solo a sinistra quiz numero 5 il segnale raffigurato obbliga a dare precedenza ai veicoli provenienti sia da destra che da sinistra la risposta corretta è vero il segnale raffigurato ci indica di dare la precedenza ai veicoli che arrivano da sinistra e da destra quiz numero 6 le strisce bianche discontinue sull'intersezione in figura sono strisce di guida la risposta corretta è assolutamente vero le strisce tratteggiate all'interno di questo incrocio ci aiutano a capire qual è la nostra corsia e quindi non commettere movimenti improvvisi e si chiamano strisce di guida quiz numero 7 le luci in figura si trovano lungo le linee ferroviarie come semaforo per i conducenti dei treni la risposta corretta è assolutamente falso queste due luci rosse lampeggianti si trovano nel passaggio a livello che non ha le barriere o in quello con le semi barriere e ci indicano se è spente che possiamo transitare se è accese che ci dobbiamo fermare prima della riga d'arresto quiz numero 8 il segnale raffigurato che indica la vicinanza di un ospedale invita a non fare rumori molesti nelle sue vicinanze la risposta corretta è vero siamo in vicinanza di un ospedale e non dobbiamo emettere rumori molesti quiz numero 9 il segnale raffigurato indica quanti veicoli possono transitare contemporaneamente la risposta corretta è falso falsissimo il segnale raffigurato essendo giallo è un segnale temporaneo utilizzato per i lavori in corso ci indica che fra 500 metri c'è un cantiere e c'è una diminuzione da 3 a 2 corsie quiz numero 10 il segnale raffigurato consente il transito dei motocicli la domenica dalle ore 8 alle ore 20 la risposta corretta è falso il segnale raffigurato indica il divieto di transito dei motocicli nei giorni festivi quindi le domeniche sono incluse dalle ore 8 alle ore 20 quiz numero 11 salvo diversa segnalazione il limite massimo di velocità nei centri abitati è di 60 chilometri orari valido fino ad un chilometro dopo l'uscita del paese la risposta corretta è falso il limite massimo di velocità in un centro abitato generalmente è di 50 chilometri orari quiz numero 12 la distanza di sicurezza è commisurata anche al tipo di veicolo che segue la risposta corretta è falso falsissimo abbastanza facile non è che per calcolare la distanza di sicurezza faccio riferimento al veicolo che segue no 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 farò riferimento ad altri fattori come la velocità le condizioni dell'asfalto le condizioni del mio veicolo eccetera 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 quiz numero 13 il carico sugli autoveicoli non deve superare la portata indicata nella carta di circolazione la risposta corretta è vero il carico che andiamo a posizionare all'interno dei nostri veicoli non deve superare la portata indicata dalla carta di circolazione se no pesa troppo e se pesa troppo non ho stabilità e rischio di rompere il veicolo quiz numero 14 nell'incrocio rappresentato in figura i veicoli passano nel seguente ordine c a h e d in questo incrocio ci sono quattro veicoli il veicolo che alla destra libera il veicolo d quindi passa per primo poi passa c a e per ultimo h quindi la risposta corretta è falso quiz numero 15 la manovra di sorpasso deve essere eseguita a destra se il conducente del veicolo da sorpassare ha segnalato l'intenzione di voler svoltare a sinistra la risposta corretta è vero 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 se il veicolo che ci precede dichiara l'intenzione di andare a sinistra allora lo posso superare a destra quiz numero 16 la sosta di emergenza è la temporanea sospensione della marcia per consentire la discesa di persona invalida la risposta corretta è falso falsissimo la sosta di emergenza è sì la sospensione della marcia del veicolo e quindi siamo fermi ma in due situazioni quando c'è il malessere di un passeggero o del conducente o quando il veicolo entra in avaria cioè si rompe quiz numero 17 nel caso di ingombro della carreggiata per caduta del carico non removibile il conducente può evitare di informare un organo di la risposta corretta è falso quando il carico non è removibile devo avvisare l'ente di polizia non posso stargli tutto il giorno a fingermi di essere un vigile i segnali manuali si possono fare ma devo cercare di liberare la zona e quindi evitare pericolo nel minor tempo possibile quiz numero 18 i catadiottri rendono più visibile un veicolo guasto nel caso in cui non funzionino le luci di posizione posteriori la risposta corretta è vero il catadiottro che è posizionato anche nelle nostre biciclette è una specie di vetrino in plastica che riflette la luce e ha il compito di rendere più visibile il nostro veicolo quiz numero 19 il postino durante l'attività lavorativa non ha l'obbligo di agganciare la cintura di sicurezza la risposta corretta è falso falsissimo anche il postino deve alacciare la cintura di sicurezza ricordiamoci bene che le tre o meglio i tre soggetti che non hanno l'obbligo di farlo sono gli istruttori di guida quando svolgono la loro professione persone con determinate malattie certificate e le donne incinta sempre con un certificato quiz numero 20 l'uso di telefono cellulare senza auricolare o viva voce durante la guida comporta una perdita di punti sulla patente la risposta corretta è vero verissimo non si può utilizzare il telefono senza viva voce o auricolare questo comporta una perdita di punti sulla patente quiz numero 21 il fenomeno dell'acqua planning aumenta nelle carreggiate a forte pendenza laterale la risposta corretta è falso carreggiata a forte pendenza laterale che cosa vuol dire che la strada è fatta così meglio perché così l'acqua scorre lateralmente e va a finire nelle cunette laterali che sono i famosi fossi quindi non aumenta l'acqua planning in questo caso ma si cerca di evitarlo quiz numero 22 lo stato di shock può essere causato da una forte perdita di sangue la risposta corretta è assolutamente vero se perdo tanto sangue posso entrare in stato di shock quindi la paura e il dolore possono crearmi un conseguente stato di shock quiz numero 23 per poter stipulare una polizza assicurativa contro il rischio di furto occorre che il veicolo sia dotato di antifurto la risposta corretta è falso non serve che il veicolo abbia l'antifurto ma potete farla tranquillamente anche se il veicolo non ce l'ha quiz numero 24 per salvaguardare l'ambiente dall'inquinamento atmosferico bisogna premere diverse volte e a fondo il pedale dell'acceleratore affinché il veicolo raggiunga in fretta la temperatura di esercizio la risposta corretta è falso è vero che la marmitta per poter intrappolare tutti i gas tossici deve avere una certa temperatura ma se io accelero sempre tanto e premo con forza il pedale dell'acceleratore consumo più carburante e di conseguenza inquinerò molto di più quiz numero 25 la forza aderente se eccessiva comporta il surriscaldamento dei freni la risposta corretta è falso la forza aderente non è collegata ai freni e quindi mi raccomando la forza aderente è la capacità che abbiamo noi è quella forza che ci permette a noi di spostarci è una cosa molto positiva quiz numero 26 il segnale raffigurato preannuncia che bisogna rallentare per accertare che ci venga data la precedenza la risposta corretta è vero il segnale ci indica che noi siamo sulla strada principale da destra e da sinistra arrivano altre strade i veicoli che arrivano da quelle strade si devono fermare o comunque devono darci la precedenza ma noi che passiamo per primi dobbiamo sempre controllare che ci venga data e quindi rallenteremo progressivamente quiz numero 27 la distanza di sicurezza deve essere almeno uguale ai metri che il veicolo percorre durante il tempo di reazione la risposta corretta è vero questa domanda è difficile andate a vedervi il video in cui parlo della distanza di sicurezza ora ricordatevi che la distanza di sicurezza deve essere almeno uguale ai metri che il veicolo percorre nel tempo di reazione quiz numero 28 il mancato rispetto delle norme prescritte per immettersi nel flusso della circolazione non comporta la sottrazione di punti dalla patente ma sanzione pecuniaria la risposta corretta è falso se non rispetto le regole per immettermi nella circolazione mi tolgono i punti sulla patente perciò state molto attenti quiz numero 29 il pannello raffigurato identifica gli autocarri specializzati per il trasporto di materiali da costruzione la risposta corretta è falso questo è il pannello che si utilizza quando il carico sporge ricordiamoci che può sporgere posteriormente di massimo ai tre decimi della lunghezza del nostro veicolo quiz numero 30 siamo alla fine se un infortunato della strada è cosciente ma ha avuto un trauma della gabbia toracica con ferita visibile e profonda bisogna comprimere subito con un panno pulito la risposta corretta è vero se uno ha una ferita sanguinante la prima cosa è evitare che fuoriesca il sangue se non è destinato a morire e allora comprimiamo la ferita per evitare appunto che il sangue fuoriesca ok ragazzi il video è terminato spero vi sia piaciuto scrivete nei commenti tutti i vostri dubbi e le vostre paure io tenterò di rispondere a tutti anche se siete davvero tantissimi meglio così mi raccomando cliccate mi piace al video e seguite il mio canale noi ci vediamo alla prossima puntata ciao a tutti 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 Grazie a tutti